Diciamo che è partita da una collezione personale, poi mi è venuta l'idea di condividerlo con i miei clienti nel mio bar e creare un piccolo museo che, devo essere sincero, piace. Non chiamatelo nerd, la sua devozione al mondo Marvel nasce e cresce grazie ad un unico personaggio, punto zero della sua collezione e del museo diffuso in cui ha trasformato la propria attività. Lo ha anche tatuato sul braccio. E Tony Stark, altrimenti conosciuto come Iron Man, la prima passione di Claudio Forte, che in onore del suo beniamino ha deciso di trasformare il suo bar pizzeria in un grande contenitore di opere più uniche che rare. Reperiti in ogni parte del mondo, i pezzi della collezione spaziano dai caschi degli eroi nati dalle menti dei più celebri disegnatori americani alle statue che ne esprimono i volti. Iron Man, certo, ma anche Hulk, Lomoragno, Wolverine, Capitano America, Thor, Black Panther, ci sono davvero tutti. Pezzo forte della collezione, la parete con i quadri autografati dagli autori. Una delizia per i più piccoli che non credono ai loro occhi quando entrano nel Marvel Café, ma i veri appassionati sono gli adulti, spiega Claudio, e tutti coloro che sono cresciuti leggendo le storie di questi personaggi. Il Q8 Marvel Café è in via San Giorgio a Bari, tappa obbligata per gli automobilisti, certo, ma soprattutto per i tanti appassionati che con Claudio condividono questo grande amore. Un'idea originale diventata anche intuizione imprenditoriale nel futuro chissà, come dice Iron Man del resto, i record sono fatti per essere superati. Mi sono innamorato di questo personaggio e ho cominciato a seguirlo col 2, col 3 e poi tutti gli altri supereroi e è nata una passione che ormai continua giorno dopo giorno. Ecco, la prima cosa che mi viene da pensare è i bambini quando entrano qui, ma tu dicevi in realtà sono più gli adulti che apprezzano. Sì, sì, bambini è vero, ma quanti ragazzi, ragazzi maggiorenni, adulti anche, che si fanno foto, selfie con la parete, è bello, è bello, è una cosa bella quando crei qualcosa che piace, insomma. Hai intenzione di allargarti con questa collezione perché qui non entra più nulla? Purtroppo non c'ho più spazio, però qua i supereroi continuano ad uscire, non mi posso fermare.